Ma insomma sono decisioni che prenderanno in autonomia i 5 Stelle, ripeto quello che c'era da dire è già stato detto, non hanno una strategia chiara, stanno bussando alla porta dei verdi, se non va bene con i verdi busseranno alla porta di Macron, ecco c'è una confusione generale, il mio consiglio al Movimento 5 Stelle è quello di definire una linea politica chiara per quanto riguarda l'Unione Europea e andare avanti su quella, le continue inversioni AU, continui cambi di alleanze non fanno altro che anacquare il progetto e poi guardando anche i sondaggi la gente non è stupida e capisce di chi ci si può fidare e di chi non ci si può fidare, vedremo come andrà a finire anche questa storia, però ripeto noi abbiamo il nostro gruppo, stiamo lavorando bene, siamo un gruppo unito e quindi proseguiamo su questo progetto. Renzi da voi come viene vista? Ma è una cosa paradossale e ci fa venire alcuni dubbi, nel senso che il Presidente Mattarella durante le consultazioni aveva detto se c'è una maggioranza chiara, coesa, si fa un governo, se no si va a elezioni, ecco la maggioranza chiara, coesa non c'era e si aggiunge un nuovo elemento che era evidentemente, almeno a quanto trappella, stato nascosto anche al Presidente, sul fatto che pochi giorni dopo la creazione di questo governo una parte importante si stacca e chiaramente si stacca, sì Renzi può dire che ha un commitment fortissimo verso questo governo, ma è chiaro che tiene in mano un po' una golden share di questa maggioranza, quindi quando deciderà che sarà il momento di staccare la spina, staccherà la spina, con buona pace di tutti i propositi di governo coeso, con buona pace di tutti i propositi di programma economico, di programma di riforma eccetera eccetera. Credo che l'unica cosa che interessi a Renzi e a questa maggioranza sia una nuova legge elettorale che potrà prolungare, io credo, la loro agonia, quindi andando verso il proporzionale, per il resto speriamo che non facciano troppi disastri.